Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ci troviamo nella cappella del nostro oratorio per iniziare questo periodo che ci porterà a Natale. Vorremmo che questo tempo difficile diventasse un tempo di grazia per tutti, è un modo di sentirci vicino e privare insieme. Il nostro appuntamento sarà ogni domenica, durante il quale c'è un minimo di candele della colonna dell'avvento e vediamo un po' che chi nel pasto del Vangelo cosa ci suggerisce. Dal partire da secondo Marco, in quel tempo Gesù Cristo è sufficiente? Vediamo il problema, voi non lo sapete, quanto è il futuro di casa da noi o per noi, sia dalla sera, in mezzanotte, tanto regalano, buona mattina. Padre Volevo che il giorno del Vangelo Cristo non viene trovato il contatto. Quello che vi fa a voi, volete accogliere, vegliate. Gesù ci deve rivegliare, di non lasciarsi andare a fare della benizia, perché potremmo metterci qualcosa di vero che accade intorno a noi. Quindi per questa buona settimana dell'avvento, cerchiamo di rivegliare l'attenzione. potremmo ricercate intorno a noi, in un'amica, con un'amici, sempre da distanza, questo è difficile. Vedete tutto, quindi, come ci vedete su, veicami, adesso accendiamo la domanda dell'avvento. Grazie a tutti.